Breve invece il commento questa settimana per la seconda categoria, esattamente il Girona 5, in quanto si sono disputate due sole partite che erano in pratica partite di recupero delle giornate precedenti. Quasi nulla di nuovo dovremmo dire perché il Casabona, la prima in classifica, vince per 3 a 2 contro il Petrona e rafforza la sua posizione in testa appunto della classifica portandosi a 4 punti sul Pianopoli e la stessa cosa invece succede continuamente ormai per il Palerviti che non riesce a venire a capo nemmeno di questa trasferta, perde 2 a 1 alle Castelle e quindi purtroppo rimane in fondo alla classifica con soli 2 punti e ormai vede le altre squadre che si allontanano e diventa a questo punto difficilissimo poter evitare la retrocessione diretta, quella che sapete che tocca all'ultima in classifica. Il comprensorio Corace come dicevamo si porta a 26 punti, 4 punti di distacco sul Pianopoli e 5 punti sull'amatori Castella.